Musica Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Bentrovati al meteo. Domenica ancora in compagnia di un tempo spiccatamente instabile. Vediamo insieme la previsione del 4 ottobre. Sul Veneto al mattino alternanza di nubi e rasserenamenti, precipitazioni via via più diffuse invece nella seconda parte della giornata tuttavia meno probabili sui settori meridionali della nostra regione. Entro la notte piogge ovunque, localmente anche forti. Temperature stazionarie minime tra i 7 e i 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente qualche sprazzo di sole col passare delle ore temporali più estesi, anche intensi, durante la notte. Temperature minime fino a 15 gradi, massime sui 19 e 21 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni fortemente perturbate, specie però dal pomeriggio, con precipitazioni gradualmente più forti. Temperature minime sui 9 e 10 gradi, massime in calo fino a 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.